Musica Ecco qua la maglietta, non l'ho fatta vedere, sono un sacco di ragazze, vi aspettiamo a quattro, via Santamaria Ciao Nancy Ciao Guardate guardate la nostra negozia, questi sono i fiori che mi ha fatto Dario La troppa, bellissima, mi l'hai regalato tu Dario, che bella Regalo, il primo regalo per la bioprofumeria che ha visto a sciocco, e guardate la foto Ho dito un po' di campioncini Poi ditemi voi, io sto qua per voi Troppo carino Il mio pollo è accadito, è troppo carino Un saluto Ciao 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 Pienso Un saluto salutino a questi due amici lei è una mia follower di Roma e lui ha fatto il regalo e l'ha portata qua a Calita Shop bravo un fidanzato modello lei è una mia mini follower bellissima guardate quanto è bella cominciano presto e poi vedi la bustina brava ciao ragazzi qui c'è Roberta e c'è anche Luca aspetta Roberta Luca e Alessandro Luca e Alessandro sono tutti qui via Santa Maria numero 95 Calita Shop Luca dove ti trovi? a via Santa Maria 95 a 4 Calita Shop grande guardate Carlita come lavora senza fermarsi H24 anzi H48 no H24 grazie le persone continuano a venire a venire a vedere il nostro Shop da Carlita Shop siamo ancora in pochi venite venite siamo in pochi siamo in pochi siamo in pochi ciao ciao salutino ciao fate un salutino ciao grazie saluto tutti insieme a mia via ciao 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 bravi ma sei bella vieni benissimo credi ciao 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 paghi se sei volume uno sono piccoli ma sono grandi di penetrazione allora adesso regaliamo questa scatola Anthos dentro ci sono dei prodotti fantastici perché dovete avere la sorpresa estraiamo il numerino dammi chi è che estraia lui maschio non è in tedesco non sono un po' altruoso chi gli occhi vai scegli un bel numerino vabbè hai preso quello adesso questo è numero 51 chi è? eccola eccola su questo esposidore sono tutti prodotti naturali vediamo cosa ha visto una crema elasticizzante viso e collo alla rosa da maschera bellissima una crema inalagrante con protezione solare spf 15 di cui si è staccato il tappuccio lo mettiamo subito è buonissima e poi un fango crema anticellulite brava sei contenta? parola che fortuna è vero? ciao grazie noi brindiamo a Carlito a show brindiamo con le nostre ragazze bellissime facciamo un bel brindici se fatto tardi per questa nuova attività che svolgiamo con la gioia di Pachito e la voglia di Pachito ciao grazie dove è? non lo vedo dove sta? sta lavorando eh ti vedi sta ancora lavorando non si firma è un treno vai 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 3 2 2 1 via uuuuh evviva auguri 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 e figli baschi auguri 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 ma c'è ancora qualcuno che alle 10 di sera ci viene a trovare ci viene a trovare gli ultimi arrivati ciao auguri ciao